Tra Africo, Brancaleone, Bruzzano, Zeffirio, ogni appalto era cosa loro e per rivendicarne l'esclusiva proprietà non hanno esitato persino a fare irruzione durante una riunione di giunta e minacciare il sindaco e il vice sindaco diffidandoli dall'assegnare ad altri appalti e lavori. Così, almeno fino al marzo 2015, ha funzionato l'amministrazione di Brancaleone, piccolo centro della provincia ionica del Regino, per anni preda di capi e gregari di due nuove articolazioni di indrangheta, i CUMPS e il Banco Nuovo, oggi tutti finiti in manette. Alle prime ore della mattinata odierna, infatti, al termine di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con il supporto di numerosi presidi tecnologici, investigatori del nucleo investigativo del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, del Gruppo Carabinieri di Locri e del Commissariato di Condofuri e Bovalino, hanno eseguito un'ordinanza di applicazioni di misure cautelari emesse al Tribunale di Reggio Calabria, a carico di 46 soggetti, 31 in carcere, 6 arresti domiciliari e 9 all'obbligo di dimora. Ritenuti responsabili a vario titolo dei delitti di associazione mafiosa, falsità ideologica, commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, violenza e minaccia, pubblico ufficiale, illecita concorrenza con violenza e minaccia, e ancora turbata libertà degli incanti, estorsione, rapina, associazione impropria, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche ricettazione, aggravati dal ricorso al metodo mafioso. Numerose le perquisizioni domiciliari nei confronti degli stessi indagati. La maggior parte degli arrestati sono giovani, se non giovanissimi. Si sentivano i padroni assoluti e incontrastati, così ha commentato il procuratore capo della DDA di Reggio Calabria, Federico Caffiero Derao. Con arroganza, senza pari, imponevano il proprio dominio su appalti e lavori. Ma non solo, quello che questa indagine racconta sono le nuove manifestazioni attraverso cui l'Andrangheta esercita il controllo del territorio. Eredi di clan storici come i Morabito, Tira Dritto e i Palamara scriva, le nuove leve hanno ereditato il carisma delle vecchie generazioni, ma rispetto agli anziani che della strategia del basso profilo hanno fatto il proprio marchio di fabbrica, si sono mostrati pronti ad affermarla con spudoratezza senza pari. Figli dell'era digitale, i giovani boss non si limitavano a mostrarsi nelle strade, ma anche sui social network, dove senza timore non esitavano ritrarsi armati fino ai denti come i protagonisti delle serie TV. Fin dall'avvio delle investigazioni è emersa l'appartenenza degli indagati all'Andrangheta, nelle diverse formazioni che insistono sui centri di Brancaleone, Africo e Bruzzano Zefirio, con particolare riferimento ai nuovi assetti organizzativi. Accertata la persistente intrusione dell'Andrangheta nella gestione dei lavori e delle opere pubbliche, sia per quanto concerne il movimento terra, il trasporto, la fornitura di materiali, sia con riferimento alla fornitura di mezzi e manodopera. Il risultato delle indagini consente di affermare, da una parte, l'esistenza di una predominanza delle famiglie di Africo e Bruzzano sul territorio di Brancaleone, e dall'altra l'esigenza di creare autonomi gruppi di famiglie di Brancaleone, che sempre nell'ottica della visione unitaria dell'Andrangheta, abbiano l'autonomia decisionale e operativa. Le indagini hanno restituito impitosamente l'immagine di un comune, quello di Brancaleone, di fatto ostaggio dei componenti della famiglia Alati e dei loro metodi tipicamente mafiosi. Di tutte le numerose condotte intimidatorie e documentate nel corso delle investigazioni, hanno un valore particolarmente significativo. gli eventi del 10 luglio 2014, quando i fratelli Annunziato e Giuseppe Alati irruppero nel corso di una seduta dell'Aggiunta Comunale di Brancaleone per minacciare apertamente il sindaco e gli amministratori presenti, intimando loro di assegnare i lavori di manutenzione idrica nel territorio comunale denunziato, in esclusiva, senza alcuna rotazione. Dall'ascolto delle conversazioni intercettate, inoltre, è stato possibile individuare specifici reati in materia di armi pronte all'uso e a essere adoperate quando uno degli associati ne abbia bisogno anche temporaneo. Sempre nella parte di indagine curata dalla Polizia di Stato, è stata evidenziata anche un'articolata attività nel campo degli stupefacenti, riconducibile sempre ai CUMPS, un termine di derivazione del più classico CUMPARI. Le indagini hanno pertanto permesso di mettere in risalto i ruoli di soggetti che nel comprensorio di Brancaleone ponevano in essere attività di traffico di sostanze stupefacenti, che per una parte si sono compiute in Sicilia e a Bagnara Calabra. Gli spacciatori, in specie, concordavano appuntamenti con i loro clienti, adottando terminologia criptica, di dubbia valenza semantica, in base ai comuni canoli linguistici e logici. L'odierna operazione rappresenta un ulteriore ed importante step nell'azione di contrasto all'andrangheta operante nel mandamento ionico della provincia regina.